Se non ci fossero delle bollicine d'aria all'interno del gelato, avremo un prodotto molto compatto, duro, che dovremmo consumare con un coltello. La cremosità tipica del gelato artisanale è data proprio da una certa quantità d'aria. Naturalmente anche nel gelato industriale c'è aria, anzi probabilmente ce n'è molta di più. Ma quanta aria ci deve essere effettivamente nel gelato? Ed è un fattore positivo o negativo che ci sia dell'aria dentro il gelato? Vediamolo insieme. Come ho già detto in un altro video precedente, il gelato artigianale si differenzia dal gelato industriale e dal gelato soft anche per la composizione di aria che c'è al suo interno. Di solito nel gelato artigianale abbiamo una quantità di aria limitata. Perché? Perché il processo di areazione del prodotto durante la mantecazione è un processo meccanico, non ci sono delle pompe che insufflano aria forzatamente. Quindi in modo naturale con un'agitazione durante il raffreddamento abbiamo un inglobamento di una certa quantità di aria, che naturalmente dipende da tanti fattori, sia di carattere tecnico-meccanico, quindi la capacità della macchina di inglobare aria attraverso la forma del suo cilindro o il posizionamento, se è orizzontale, se è verticale, le sue dimensioni, la velocità di rotazione delle pale, la potenza frigorifera e quant'altro. Però questa è solo una piccola parte del processo, poiché la componentistica interna degli ingredienti di una ricetta possono fare la differenza a parità di processo produttivo. Mi spiego meglio. La maggior parte dell'aria contenuta nel gelato viene inglobata durante la mantecazione. Questo processo ha il suo massimo sviluppo quando si iniziano a formare i cristalli di ghiaccio, quindi dagli 0 gradi ai meno 4 o meno 5. Per poter mantenere le bollicine d'aria che sono state inglobate durante questa fase bisogna che all'interno della ricetta ci siano delle sostanze capaci di trattenerle, quindi fondamentalmente le proteine del latte, le proteine delle uova oppure degli stabilizzanti particolari che aiutano a trattenere l'aria all'interno del prodotto. Ma quanta aria ci deve essere nel gelato? Beh, è difficile misurarla in modo preciso e matematico, anche perché la quantità di aria nel gelato può variare successivamente alla sua mantecazione, proprio in base anche alla composizione della ricetta. Quindi un gelato appena mantecato può risultare molto gonfio, molto ricco di aria, ma dopo qualche ora di stazionamento nel banco o nella vetrina potrebbe perderla e quindi se la misurazione la facciamo subito dopo la produzione avrà magari una percentuale diversa che se l'avessimo fatta dopo qualche ora. Poi anche l'azione meccanica della paletta, mentre noi mescoliamo il gelato per renderlo magari un po' più morbido da mettere sul cono o sul bicchierino, comporta la perdita di una certa percentuale di aria. Ecco perché è così difficile dare delle percentuali precise su quello che dovrà essere il prodotto artigianale in termini di overrun, cioè di quantità di aria. Ma cosa serve l'aria nel gelato? Serve sicuramente ad ottenere un prodotto che sia un po' meno freddo al palato, perché le bullicine d'aria si interpongono fra i vari cristalli di ghiaccio e la matrice fredda del gelato, dando una sensazione di apparente calore. Questo fenomeno ce lo possiamo spiegare anche molto semplicemente prendendo ad esempio la panna. La panna liquida che prendiamo dal frigorifero a 4 gradi, se la beviamo sarà molto fredda al palato. Se la stessa panna, la stessa temperatura, la montiamo in planetaria e la mangiamo montata, ci sembrerà addirittura calda. Quindi la sensazione di un gelato non freddo al palato è data in gran parte proprio dalla presenza dell'aria, di una certa quantità di aria. Per ottenere un gelato con una grande quantità di aria è necessario insufflarla con dei sistemi di mantecazione che sono diversi da quelli che abbiamo normalmente nelle gelaterie. Chi insuffla l'aria nel gelato è l'industria tipicamente, perché ha dei sistemi di freezer continui che producono il gelato spingendo la miscela e quindi attraverso l'utilizzo dell'aria, che può essere regolata all'interno del prodotto. Questo, come dicevo, dà un gelato più caldo, ma anche una dispersione degli aromi. Quindi più aria ho nel gelato, meno sento il gusto effettivo del prodotto e della materia prima che c'è dentro. Quindi questo è anche uno dei motivi per i quali il gelato artigianale, che ha un contenuto basso di aria, diciamo che addirittura può essere da un 15-20% fino al massimo del 40%, ma non è che non si possa arrivare anche a un 45%, ad esempio, perché dipende appunto dalla capacità che ha il macchinario di inglobare aria in modo forzato. Il problema poi è mantenerla, quindi per mantenerla è necessario avere delle sostanze che la trattengono. Però ha senso avere un gelato artigianale che supera il 50% d'aria? Probabilmente no, soprattutto perché avrebbe una consistenza al palato molto evanescente e gli aromi naturali sarebbero molto diluiti, quindi bisognerebbe integrare con degli aromi artificiali o comunque aggiunti per sentire meglio il sapore, che è un po' quello che succede in certi gelati industriali di basso livello. In ultima analisi l'aria nel gelato è necessaria, c'è in modo naturale, nessuno si mette lì con una pompetta a gonfiare il nostro gelato artigianale. I prodotti che hanno una grande quantità di aria nella maggior parte dei casi sono prodotti industriali creati con dei sistemi diversi, quindi l'aria non è una discriminante negativa all'interno del gelato, ci vuole, ce ne vuole una parte, se ce n'è troppa ce ne accorgiamo subito perché il gelato è inconsistente, se ce n'è troppo poca il nostro gelato sarà troppo compatto e magari non riusciremmo a godercelo perché risulterebbe un po' troppo freddo. Ah, un'ultima cosa, il gelato è venduto a peso o a volume? Perché quando è venduto a peso, che ci sia più o meno aria, dato che l'aria non ha peso, il problema della correttezza commerciale non sussiste. Diverso invece se io vendo il gelato a volume. Se io vendo 700 ml di gelato, che include quindi il volume dell'aria, più aria c'è dentro, meno materia prima, io sto vendendo al mio cliente. Spero di avervi chiarito un pochino le idee. Ciao!